Nel bagagliaio dell'auto avevano due ordigni artigianali pronti all'uso e in casa di uno dei due erano nascosti anche 13 grammi di cocaina. Padre e figlio di Ostuni, rispettivamente di 60 e 28 anni, sono stati arrestati dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi nel corso di controlli effettuati con l'ausilio di unità cinofile. I 13 grammi di cocaina erano già confezionati in dosi e si trovavano accanto a un bilancino di precisione. I due ordigni, bombe carta del peso complessivo di oltre un chilo, erano invece nel bagagliaio di un'auto. I due hanno sostenuto che si trattasse di fuochi destinati a festeggiare l'arrivo del nuovo anno, ma la loro giustificazione non ha convinto gli investigatori vista la considerevole quantità di esplosivo che contenevano. Padre e figlio sono stati così tratti in arresto per possesso a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di materiale esplosivo non autorizzato e trasferiti presso la casa circondariale di Brindisi. L'esplosivo è stato fatto brillare dal nucleo artificieri antisabotaggio della questura di Brindisi in una cava di San Vito dei Normanni.